Pubblico meraviglioso, una cornice stupenda e adesso posso fare lo spiritoso, mia mamma dice sempre che è spirito di patata, dai che accompagna, almeno qualcosa di interessante, con permesso e torno tra una ventina di mezz'orette, Carolina! Prego, lui è un suonatore di armonica a bocca, uno dei padri fondatori del folklore a Bolotan, musicista autodidatta, voce del concurdo Totò e Zoppe, famoso gruppo a tenore, insieme ai colleghi Si reputa un artista fuori conserva, cioè anticonformista, insomma lo diciamo in un modo ma anche nell'altro per capire più che altro il significato Più che mai, Tonio Carettu! Tino, perdona, è vero, mi ha corretto il pubblico, potete tirarmi gli orecchi, la sono... Sta e avanza Eh sì, eh, per quello Tino! Prepariamo Benvenuto Vieni Andrea! Anche perché capiamo il motivo per cui Tino ci ha raggiunto Tino, ho sbagliato qualcosa relativamente alla descrizione della tua presentazione C'è da aggiungere, c'è da aggiungere, c'è da aggiungere qualcos'altro? Null'altro, se non un augurio a questo bravissimo ragazzo, che già da piccolino aveva un'immensità di talento Andrì, ammenta di chi non vola solo il suo nome, ma lo talento schiatti ecco Sì, perché no? Tanti ho un radiomicrofono, prego Dici tu stesso, Tino? Va bene così? Per ascoltare che cosa? Cosa ci fai ascoltare? Sì, se vuoi dire che questo è un nuovo riscontro, la sua, questo Non dico se mi metto a suonare, voglio un basso orale Vanno bene? Va più che bene Tino Caretti Grazie